Salve a tutti carissimi cinefili e carissimi cinefili ben ritrovati in questo nuovo video. Dunque oggi voglio parlarvi di un film che sono andato recentemente a vedere al cinema. È firmato dai Manetti Bros ed è intitolato Diabolic 2 Ginkgo all'attacco. Premetto che farò degli spoiler quindi se ancora non avete visto il film in questione e non volete sapere nulla in anticipo tornate in un secondo momento a vedere questo video. Dunque Diabolic 2 io sono andato con una certa curiosità a vedere questo film e con una certa speranza anche perché il capitolo precedente l'avevo visto con grande interesse e però sinceramente io non sono un grande estimatore di quel film. Ci sono sicuramente delle cose interessanti, c'è una buona regia, c'è anche un buon cast per esempio Luca Marinelli è stato da alcuni criticato come Diabolic, poco convincente, non in parte eccetera e invece secondo me era uno di quegli elementi che giocava a favore del film. La ricostruzione di Clareville poi secondo me era stata fatta in maniera convincente, i costumi erano abbastanza buoni. Insomma un film che nonostante avesse tanti difetti però aveva anche dei pregi. La fotografia per esempio mi era piaciuta. Quindi io speravo che partendo da quella base Diabolic 2 potesse essere migliorato. Quindi sulla base dell'esperienza Diabolic 2 potesse togliersi di dosso i problemi che la pellicola precedente aveva mostrato. Invece non è stato così purtroppo. Allora io di questo film non ho avuto un'impressione positiva, lo dico subito. Però invito comunque tutti quanti ad andare al cinema, a vederlo. Fatevi la vostra opinione. Non fatevi influenzare anche dalle critiche negative che secondo me saranno molto più numerose rispetto a quelle del film precedente. Andate al cinema, vedetelo e poi fatevi la vostra idea. Perché questo è un film che i Manetti si sono praticamente autoprodotti. Loro sono registi, sceneggiatori e produttori anche del film. Quindi è un progetto in cui sicuramente loro hanno creduto e spero che ci sia una risposta positiva da parte del botteghino. È chiaro, di fronte a questa risposta positiva, che forse ci sarà, io ieri sono stato contento di vedere la sala, che era piuttosto affollata. Magari ci sarà stata la complicità del tempo che, insomma, ieri qui a Piombino non era particolarmente gradevole. C'era la pioggia, freddo e quindi tanti magari hanno deciso di rifugiarsi dentro il cinema e di vedere anche il film. Però sono convinto che una certa fetta di pubblico ha voluto proprio vedere il film al cinema. E di questo si può solo che essere contenti. Però allo stesso tempo mi è dispiaciuto che il pubblico in sala abbia dovuto sorbirsi 111 minuti di una roba che, francamente, è un evidentissimo passo indietro rispetto al primo Diabolic. Ragazzi, purtroppo qui siamo di fronte ad un film che, a mio avviso, nel complesso è assolutamente insufficiente. Partiamo dalle cose positive. Allora, le musiche. La colonna musicale di questo film mi è piaciuta. Le sonorità anni 60 sono adeguate. I brani scelti vanno bene. Sono accattivanti. Riescono a catturare l'attenzione dello spettatore. E su quello non dico niente di negativo. Le ricostruzioni, le scenografie, sono anche queste ben curate. Sono allo stesso livello del film precedente. Forse è la cosa migliore, addirittura, di tutto il film. I costumi. Anche i costumi ci stanno. Ma sono praticamente gli stessi del film precedente. Quindi va bene. E, non so, la presenza fisica anche di Giacomo Giagnotti. Che è il nuovo Diabolic. Nel film precedente era Luca Marinelli. Qui c'è stato un recasting. Ed è stato scelto Giagnotti al suo posto. E devo dire che come presenza fisica Giagnotti ci sta. Ha il physique du rôle. Perché dal punto di vista somatico, insomma, la somiglianza nei confronti del Diabolic fumettistico è evidente. Insomma, ci sta tantissimo. Però si ferma lì. Perché dal punto di vista recitativo, francamente, Giagnotti mi è sembrato non all'altezza. Molto inferiore rispetto a Marinelli. In generale, la recitazione di questo film è veramente sotto il livello di guardia. Siamo proprio ai minimi termini. Pochi si salvano. Mastandrea, lui sì, è l'unico che mi è sembrato abbastanza convincente insieme ad altri due attori. Non so, quello che fa la parte del ministro. quel sergente che è sempre un po' sfavato, quasi annoiato, mi è sembrato abbastanza in parte. Poi per il resto, francamente, no. Non ci siamo. Assolutamente. Giagnotti, come ho detto, non è un attore che sembra essere Diabolic nelle movenze. Cioè, lo è dal punto di vista della somiglianza, ma quando si muove no, francamente mi è sembrato appesantito, per niente aggraziato, non è agile. No, non mi ha detto niente da questo punto di vista. E quando parla è sempre monocorde. Mi è sembrato molto forzato, come la gran parte degli attori di questo film. Miriam Leone, che ritorna nei panni di Eva Kant, sì, ci sta dal punto di vista fisico, come avevamo già visto nel film precedente, ma qui mi è sembrata che la sua interpretazione abbia fatto veramente uno, due, tre passi indietro. L'impostazione della voce è sempre forzata. Poi, le sue espressioni, non so ragazzi, sembra di vedere la Kristen Stewart di Twilight, sempre con la bocca mezza aperta, con gli incisivi superiori in bella mostra, c'è sempre questa espressione qui, ma perché? Cioè, non non lo so, mi ha veramente stranito. Per non parlare poi della Bellucci, ragazzi, la Bellucci è inascoltabile, mi dispiace tantissimo dirlo, perché mi sta simpatica, è una donna bellissima, e nella sua carriera ci ha anche dato delle interpretazioni che sono comunque degne di nota. Io mi ricordo di lei in I Have a Sible e la sua interpretazione in quel film, insomma, considerando anche che c'è una scena di stupro molto violenta, molto impattante, lei, secondo me, fu brava nel interpretare il suo personaggio. Qui è semplicemente inascoltabile. Poi non aiuta il fatto che il livello dei dialoghi è imbarazzante. Cioè, i dialoghi in questo film sono qualcosa di terribile, tremendo, spesso sembra che a scriverli sia stata l'Ori del Santo, invece i registi sono anche i cosceneggiatori insieme alla neve e mi sembra impossibile che loro in sede di scrittura non si siano resi conto di quanto siano ridicoli questi dialoghi e ci sono anche dei personaggi che sembrano presi da The Lady. Ora, io sto facendo riferimento alla serie web di Lory del Santo come se volessi fare un'esagerazione, ma ragazzi, guardate il maggiordomo del personaggio della Bellucci, di Altea. Sembra di vedere veramente Chang di The Lady. ogni volta che compariva lei cioè Altea e qualcuno del suo entourage vi giuro era una risata dietro l'altra io non ce la facevo più e i personaggi si dicono cose senza senso oppure esplicitano quello che è evidente agli occhi dello spettatore quello che è chiaro in certe situazioni è coerente con il fatto che si deve informare un certo personaggio di un evento che è avvenuto in un altro luogo e quindi lui non lo può sapere può solo conoscere i fatti se qualcuno glieli riferisce e lì va bene ma in altre situazioni invece i dialoghi sono proprio ridondanti cioè inutilmente ti spiegano quello che è chiaro a te e ai personaggi stessi oppure si va sul melassoso sullo stucchevole proprio quando abbiamo per esempio Diabolic e Evacant che amoreggiano cioè sembra proprio che spetti solo ai dialoghi il far capire allo spettatore che in quel momento c'è una tensione erotica fra i due ma ragazzi non è così cioè si passa proprio il limite dell'accettabile oppure certe battute che vengono messe in bocca a Pier Giorgio Bellocchio la gente Palmer tra l'altro Pier Giorgio Bellocchio è anche un attore secondo me bravo l'ho visto di recente in esterno notte è stato veramente convincente e qui invece è una macchietta è veramente un personaggio che dice delle cose ridicole ad un certo momento dice a Ginko che loro devono insistere devono continuare abbraccare Diabolic perché lui è debole proprio ora che è sotto l'attacco di Ginko ma cosa vuol dire ma cosa significa cioè qui siamo veramente allo stesso livello di non so se avete visto Fantastic Four quando abbiamo il fratello del personaggio che poi diventerà la cosa uno dei Fantastici Quattro che sono ragazzini ad un certo punto arriva il fratello maggiore e gli dice ehi è tempo di distruzione che è la battuta tipica della cosa ma detta totalmente fuori contesto non ha il minimo senso che quel personaggio dica ehi è tempo di distruzione cosa vuol dire non significa niente esattamente come la battuta pronunciata da Palmer è sotto l'attacco di Ginko cosa significa che poi tra l'altro questa cosa lui la dice proprio all'ispettore cioè quindi boh non lo so è assurdo e poi anche dal punto di vista registico secondo me c'è stato un arretramento rispetto al film precedente vi faccio un esempio che secondo me è emblematico ad un certo momento Eva Kant fa credere a Ginko a tutti quanti che lei voglia tradire Diabolical e lo voglia consegnare alla polizia quindi si danno appuntamento ah però prima aspettate l'ispettore Ginko cerca di catturare Eva Kant e Eva Kant ovviamente riesce a scappare ma la dinamica della fuga della Kant è qualcosa di ridicolo assolutamente ridicolo perché noi vediamo il personaggio di Roller interpretato da Alessio Lapice che è veramente sprecato e anche lui insomma quando quando ride quando vuol fare la parte di quello che è estremamente sicuro di sé eccetera boh convincente proprio zero ma vediamo che Roller il quale è in realtà diaboliche perché lui ha tutte le maschere e si confonde benissimo si avvicina a Eva Kant e questo lo stende con un pugno e rimane disteso per terra e blocca la strada praticamente perché ci sono due macchine al lato di questa via e lui sta disteso in mezzo per orizzontale no? e lei prende la pistola la punta addosso a Roller e ci sono altri tre poliziotti che l'hanno circondata e lei semplicemente dice a uno di questi butta la pistola altrimenti gli sparo e questo butta la pistola che anche lì abbastanza discutibile perché cioè nel senso ce l'ammazzi ma noi ammazziamo te e questo si può riparare dietro una portiera per dire no? però va bene lui mette giù la pistola perché vuole salvare la vita al Roller ok Eva Kant entra nella macchina della polizia mette in moto e parte gli altri due salgono sul mezzo per inseguirla però non passano perché c'è il corpo di Roller che è Diabolic disteso per terra accidenti l'abbiamo persa scusa ma trascinarlo via no? non potevate spostarlo perché poi non è che lei se n'era già andata a 100 km doveva far manovra doveva riprendere la strada cioè avevate modo di inseguirla invece no Roller è disteso per la strada come se fosse un tronco d'albero che è impossibile da spostare eh no non possiamo inseguirla cioè io ragazzi veramente non ci volevo credere e ritornando all'incontro tra la Kant e Ginko il punto di ritrovo è in cima a un faro di notte immaginate il posizionamento degli attori su questo faro loro stanno in questa posizione no? io sono il faro la macchina da presa è posta frontalmente al faro il quale appunto essendo un faro illumina in modo intermittente lo spazio circostante ora ogni volta che la luce sferza veramente l'inquadratura è una ferita per gli occhi ora come come fa uno a pensare ah ma questa è una bella inquadratura funziona no è disturbante anche perché una volta che mi hai descritto il luogo dove si incontrano cioè non c'è bisogno tutte le volte di far vedere il faro con la luce che ti abbaglia è veramente una cosa fastidiosa è fastidiosa addirittura quando vengono inquadrati soltanto gli attori perché la luce li investe costantemente cioè come è stato possibile pensare ah ma questa è una bella inquadratura come come si fa com'è che non se ne sono accorti cioè è è veramente assurdo poi un'altra cosa sulla sceneggiatura quando vengono rubati i gioielli all'inizio del film scopriamo che le modelle che indossano questi gioielli fanno parte della polizia e sono tutte quante armate mi sembra che siano cinque ragazze ora queste qui rivelano la loro identità dopo che Diabolica ha fatto il colpo però nel corso della sfilata o dello spettacolo quello che è dopo che c'è stato Diabolica che ha tolto la luce e si capisce chiaramente che ci sarà il colpo da parte sua visto che appunto erano stati mandati dei poliziotti sotto copertura le agenti di polizia che sono travestite da modelle quando vanno dietro le quinte vedono arrivare un tizio vestito come un poliziotto che le vuole prelevare per portarle in un luogo di sicuro e la mora del gruppo perché le altre sono tutte bionde la mora del gruppo si insospettisce e chiede dove siano gli altri colleghi e lui risponde ironicamente eh gli altri stanno ancora cercando di capire cosa sia successo e vediamo che sono stati uccisi da Diabolica poi queste qui vengono portate in un luogo sicuro poi in realtà è un camion vengono rapite devono lasciare gli oggetti e se ne vanno e va bene ora però il fatto è questo l'obiettivo di Ginko è quello di catturare Diabolica sì c'è tutto lo stratagemma dei gioielli che sono stati immersi in un liquido radiattivo e quindi loro possono seguire gli spostamenti della Kant di Diabolica va bene però se la priorità assoluta come viene detto per tutto il film è la cattura di Diabolica quindi non trovare il covo non catturare la Kant eccetera ma catturare Diabolica in quel momento ci sono cinque agenti armati perché tutte quante hanno la pistola lui è da solo ed è chiaro che si tratta di Diabolica quantomeno loro lo sospettano fortemente ah perché in quel momento visto che siete tutte quante armate non avete agito lo spettatore se la fa questa domanda perché è palese che c'è qualcosa che non va in quella situazione e invece no loro si fanno tranquillamente portare dentro il camion vengono ritrovate siete state bravissime tutto è andato alla perfezione stretta di mano complimenti eccetera poi questo gruppo sparirà non lo vedremo mai più quindi anche lì c'è una debolezza di scrittura secondo me abbastanza evidente poi ritornando un attimo su Altea scopriamo che lei è amante di Ginko cioè la storia d'amore fra i due fra questi due personaggi cioè è di una inconsistenza assurda serve solo e soltanto a mostrare diciamo il lato tenero romantico dell'ispettore Ginko e basta poi per il resto non serve a niente e anche lì ad un certo momento la collana preziosissima bellissima di Altea viene rubata dalla Kant che si finge una truccatrice ora il problema è che l'attrice che fa la truccatrice è notevolmente più bassa di Miriam Leone e quindi quando scopriamo che in realtà è lei lo spettatore si chiede ma come ha fatto a abbassarsi di non so quanti centimetri per entrare nei panni della truccatrice cioè non potevate trovare un'attrice che fosse della stessa altezza di Miriam Leone cioè che tra l'altro Miriam Leone non è bassa è tipo è quasi un metro e ottanta mi sembra sia un metro e settantacinque cioè quell'attrice lì è evidentemente più bassa della Leone cioè capite magari per tante cose sono stati curati dettagli per esempio per la scenografia appunto che ripeto è una delle cose migliori del film però per altre cose invece si lascia completamente perdere c'è una grande faciloneria non mi capacito che un film come questo su cui i manetti insomma hanno avuto il controllo pressoché totale com'è possibile che ci sia proprio questa sciatteria perché si tratta di sciatteria secondo me nella scrittura nella recitazione in certe scelte cioè proprio non lo so è un film questo che mi ha lasciato fortemente perplesso con un finale che è a dir poco anticlimatico cioè io ad un certo punto quando c'è la scena conclusiva con di nuovo i due la Kant e diabolic che amoreggiano in una maniera secondo me assolutamente goffa e non convincente finale tutto viene sfocato e fine del film mi sono chiesto ma finisce così questa è la conclusione boh non lo so non lo so ragazzi veramente è è pazzesco sembra di vedere un telefilm di quelli proprio di bassa lega che danno il pomeriggio proprio per riempire gli spazi del palinsesto mi ha lasciato veramente basito mi dispiace mi dispiace tantissimo perché speravo che che il film potesse rappresentare un miglioramento rispetto al primo capitolo invece non è stato assolutamente così ora uscirà il terzo film il terzo diabolic e io ho paura io ho una paura enorme dovrò fare i salti mortali per convincere la mia ragazza ad andare a vederla al cinema io lo voglio andare a vedere al cinema chiaramente ma lei no e chissà che lei non stia interpretando il sentimento di tante altre persone che vedendo questo film sono rimaste veramente deluse quindi non lo so questo è un po' il mio pensiero sulla pellicola fatemi sapere voi che cosa ne pensate condividete il video mi raccomando iscrivetevi al canale e ci rivediamo alla prossima occasione ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti